buongiorno a tutti e benvenuti al sesto tutorial dedicato all'agenda di goweb oggi avremo modo di vedere come modificare un appuntamento è molto semplice nel senso che nell'agenda di goweb io posso tranquillamente prendere i miei appuntamenti e spostarli dove voglio quindi in su in giù piuttosto che lateralmente li posso allungare quindi allungare piuttosto che ridurre e anche nella visualizzazione eventualmente settimanale posso decidere di spostare gli appuntamenti se è più comodo magari spostarli da un giorno all'altro ok mentre tornando nella visualizzazione per collaboratore altra modalità è quello di cliccare col tasto sinistro sull'appuntamento e fare modifica da qui posso eventualmente modificare direttamente il servizio posso modificare la data l'orario quello che voglio vi aspetto nel prossimo tutorial che scopriremo una chicca come compilare il conto direttamente dall'agenda grazie 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 grazie